carissimi amici e amiche bentornati a questo ciclo di catechesi che sta in dirittura di arrivo nostro lungo viaggio alla ricerca di tracce di conoscenza di quello che potrebbe essere stato il peccato originale abbiamo concluso fondamentalmente il nostro lavoro adesso stiamo semplicemente ripercorrendo rapidamente quindi ridando uno sguardo sintetico a tutto quello che ci siamo detti nel lungo corso di queste numerose puntate per poi trarre ultimissime conclusioni probabilmente ci vorrà questa e una puntata ancora per chiudere definitivamente questo ciclo di catechesi la volta scorsa abbiamo passato in escurso tutti quanti i padri della chiesa i padri della chiesa fondamentalmente quelli che hanno tenuto una posizione sostanzialmente omogenea nell'asserire la stretta correlazione tra peccato originale e sessualità abbiamo visto le sfumature differenti le varie diversificazioni ma su questo abbiamo visto che non c'era eccezione se non in un caso il secondo sant'agostino e anche diciamo in parte quello che vedremo san clemente alessandrino il quale si afferma la dimensione sessuale del peccato originale anzi afferma che il peccato originale fu proprio l'atto sessuale ma e questo lo così diciamo così recitiamo in maniera a scarne immediatamente perché è solo questo lui dice che fu praticata prima del tempo fecero quello che il signore avrebbe comunque disposto di fare in quanto appunto fondato sulla conformazione biologica dei corpi umani ma prima del tempo un'ipotesi un pochino così abbiamo visto la volta scorsa il primo sant'agostino ecco perché poi il problema come abbiamo visto è che il secondo sant'agostino è stato poi ripreso sostanzialmente anzi addirittura con una ulteriore diciamo intensificazione da sant'ommaso d'aquino e pertanto almeno in occidente questa teoria con questi due colossi insomma sant'agostino e sant'ommaso in occidente sono le autorità più grandi diciamo così del pensiero teologico tradizionale con questi due che praticamente hanno accantonato questa ipotesi che abbiamo subito la sorte che ha avuto no? allora andiamo a ripercorrere il secondo sant'agostino nei due passi importanti citati nel testo sempre del Barontini allora innanzitutto il De Genesi Ad Litteram ecco il famoso passaggio in cui proprio cambia idea lo rileggiamo orbene se ci chiediamo per quale motivo era necessario quell'aiuto la donna l'aiuto simile a me no? creata dal Signore con ragione ci si presenta alla mente solo quello dell'abrogazione dei figli così come la terra è d'aiuto al seme per la produzione della pianta dall'unione dell'uno e dell'altro questa ragione della creazione e dell'unione del maschio e della femmina come pure la benedizione non fu abrogata neppure dopo il peccato dell'uomo e dopo il suo castigo in realtà sebbene la scrittura ricordi che i nostri progenitori ebbero rapporti sessuali e generarono figli solo dopo essere stati cacciati dal paradiso vediamo che lui ricorda insomma questo che aveva poi in precedenza affermato io tuttavia non vedo che cosa avrebbe potuto impedire che per loro ci fosse un'onorata unione matrimoniale e il talamo intemerato anche nel paradiso Dio infatti se fossero vissuti nella fedeltà e nella giustizia e lo avessero servito nell'ubbidienza e nella santità avrebbe concesso loro di generare figli con il loro seme senza l'ardore disordinato della concupiscenza senza la fatica e il dolore del parto qui bisogna notare ad onor del vero perché ci sono dei passaggi lo vedremo anche in Maria Valtorta che sì, quindi Sant'Agostino è vero che afferma che la nascita dell'essere umano sarebbe stato analogo però non come oggi senza concupiscenza senza l'ardore disordinato della concupiscenza vedremo un'espressione proprio che Gesù usa in lettere romani di Maria Valtorta che parla di un'unione carnale sensuale non santa come quella che ci sarebbe stata farsi una carne sola senza il peccato quindi non è che siamo proprio così lontani San Sant'Agostino dice che avrebbero fatto sesso tranquillamente non credo proprio non dice questo ipotizza un esercizio diverso della sessualità rispetto a quello che c'è adesso quindi non è che tutto quanto c'è stato così quindi tutto quello che hanno detto i padri tutte stupidaggini non proprio non proprio non proprio perché non è affatto poi da ecco da che cosa intende Sant'Agostino un'unione senza ardore disordinato della concupiscenza cioè un ardore senza disordinato senza ardore disordinato della concupiscenza la fa perdere la verginità diciamo proprio oppure no dato che questo era un elemento fondamentale per la tradizione patristica l'uomo rimane vergine l'uomo e la donna sono destinati ad essere vergine si sarebbe persa con questa misteriosa unione che neanche lui lo sa quale sempre Sant'Agostino andiamo a rileggere anche questo qui il Denupsis e concupiscenzia concupiscenzia scusate scrive non avvertono che non si può accusare la bontà del matrimonio per il mare originale che da esso si contrae allo stesso modo che non si può scusare la malizia dell'adultero e della fornicazione per il bene naturale che ne deriva ecco dunque lo scopo di questo libro distinguere per quanto Dio si degnerà di aiutarmi dalla bontà del matrimonio il male della concupiscenza carnale a causa della quale l'uomo che per essa nasce contrae il peccato originale questa vergognosa concupiscenza che dagli spudorati viene spudoratamente lodata non esisterebbe neppure se l'uomo non avesse peccato il matrimonio invece esisterebbe lo stesso anche se nessuno avesse peccato già che la generazione dei figli nel corpo di quella vita avverrebbe senza questo morbo senza del quale ora nel corpo di questa morte non può avvenire quindi vediamo ancora chiaramente che anche qui Sant'Agostino ripeto concede fa un discorso molto saggio dice tu non puoi tacciare di cattivere il matrimonio perché i figli che nascono dal matrimonio nonostante il matrimonio contraggono la colpa originale allora il matrimonio è cattivo perché seguendo questo ragionamento siccome un figlio può nascere sia dalla fornicazione che dall'adulterio e un figlio non è una cosa cattiva la nascita di un figlio è sempre una cosa buona in se stessa ma da che non puoi concludere che la fornicazione o l'adulterio da cui può nascere un figlio sono cose buone quindi che nasca una cosa buona da una fonte cattiva è possibile e che nasca una cosa infetta da una fonte buona è ugualmente possibile quindi questo è un ottimo ragionamento stiamo sempre parlando di Sant'Agostino quindi non le guidiamo ecco in 4 e 4 e 8 però di nuovo distingue la vergognosa concupiscenza attribuendola al peccato originale d'accordo? ora San Tommaso ha di fatto una posizione sostanzialmente identica al secondo Sant'Agostino e questa risulta lo leggo questo non c'è nel testo di Barontini devo andare un attimo a ritrovare proprio nella Summa Teologie nella terza parte la questione 41 gli articoli 3 e 4 spero di ritrovarlo subito eccolo qui allora leggo soltanto la la risposta quindi il rispondio ma anche la soluzione del terzo argomento perché dice delle cose interessanti se ammettiamo che una natura corporea dice San Tommaso è stata creata buona da Dio è impossibile affermare che quanto è richiesto alla conservazione di tale natura ed è secondo l'inclinazione naturale sia universalmente cattivo perciò esistendo l'inclinazione naturale alla procreazione della prole che assicura la conservazione della specie è impossibile affermare che l'atto con il quale viene procreata la prole sia del tutto illecito così da non ammettere il giusto mezzo della virtù a meno che non si voglia asserire secondo la follia di alcuni che gli esseri corporei sono stati creati da un Dio cattivo dal quale errore forse deriva l'opinione a cui accende il testo delle sentenze quello sotto l'obiezione 4 la quale è dunque una pessima eresia quindi il primo approccio di San Tommaso è questo qui se il corpo è una creatura di Dio e Dio crea soltanto cose buone e se la riproduzione della specie è una inclinazione naturale è impossibile che l'atto che questo realizza sia sempre comunque e dovunque universalmente cattivo questo è il suo ragionamento è chiaro che i padri dicono va bene ma siamo sicuri che nello stato di natura integra non ci fosse un altro un'altra modalità punto interrogativo la soluzione del terzo argomento che è quello appunto dice ciò che l'obiezione terza diceva ciò che è turpe in se stesso in nessun modo può essere compiuto bene ora l'atto matrimoniale è accompagnato dalla concupiscenza che è sempre turpe quindi è peccaminoso risponde San Tommaso la turpitudine della concupiscenza che è sempre accompagna l'atto del matrimonio non è una colpa ma un castigo derivante dal peccato originale e consiste nel fatto che le facoltà inferiori e le membra del corpo non ubbidiscono alla ragione questo è uno degli argomenti fondamentali di San Tommaso cioè quando afferma che gli atti comunque concupiscenti in ogni caso anche quando sono leciti sono comunque come dire un po' così perché sono comunque in quanto segnati da questa concupiscenza derivante dal peccato originale tali da abrutire l'uomo perché in quel momento l'uomo non capisce più niente semplicemente schiavo di una passione che non può controllare prorompe anche in comportamenti in cose insomma che sono bene insomma specificare ma insomma ce le possiamo immaginare che non è che sono troppo come dire nobilitanti e degni dell'essere umano e della sua nobiltà in quanto tale questo San Tommaso lo concede in ogni caso nei suoi scritti questo non dimentichiamolo ora ancora anche nell'articolo 4 fondamentalmente dice la stessa cosa riguardo il debito coniugale ed è interessante però notare una cosa questo perché qui i fautori come dire della della dottrina che quindi afferma che sarebbe stato la stessa cosa però si devono sempre leggere tutti quanti gli autori perché sentite nell'altro articolo dove parla della meritorietà dell'atto matrimoniale sentite cosa scrive San Tommaso quindi siamo sempre nella questione 41 della terza parte stavolta l'articolo 4 l'atto matrimoniale in chi possiede la grazia è necessariamente o peccaminoso o meritorio quando parla dell'atto matrimoniale capiamo di cosa sta parlando non c'è bisogno che lo specifichi poiché nessun atto deliberato è indifferente come si è visto sopra e questo nella morale generale se infatti all'atto matrimoniale si è spinti da una virtù cioè o dalla giustizia per rendere il debito coniugale o dalla religione per procreare dei figli da consacrare al culto di Dio vedete che belle cose che dice allora esso è meritorio se invece si è mossi dalla libidine attenzione restando nei beni del matrimonio nel senso cioè che uno mai desidererebbe andare con altre donne allora è un peccato veniale vedete cosa dice San Tommaso che se tu ti unisci al coniuge solo mosso dalla libidine qui neanche considera il caso della contraccezione quindi per molestando che tu non andresti mai con nessuno che non sia tu amore il tuo marito però ci vai ci stai solo per il piacere questa poi è diventata una dottrina classica nella morale sessuale cattolica anche se oggi non ne parla più nessuno ma andate a aprire i libri di morale classica di morale sessuale che andavano in vigore fino a 50 anni fa i famosi 50-60 anni fa e troverete che una coppia che si unisce solo per concupiscenza anche se oggettivamente non trasgredisce nulla quindi non usa la contraccezione e non andrebbe con nessun altro c'è un peccatuccio veniale perché è una secondaria la concupiscenza quindi tutta quanta questa come dire decantazione della sessualità e del suo valore intrinseco e non nobilitante addirittura l'essere umano che anche in parte in certe correnti teologiche è stato fatto recentemente e non solo in correnti teologiche quindi alla luce di San Tommaso d'Aquino che è la bandiera della controparte rispetto a quello che stiamo ipotizzando in questo corso di catechesi insomma bisogna leggerselo tutto questo è il testo lo faccio vedere per chi vede il video io sto leggendo esattamente qui si può andare a controllare perché ho fatto la citazione insomma non è che me lo sto inventando io proprio prima di parlare di queste cose sono andato a rivedere evidentemente io ricordavo queste cose qui di San Tommaso però chiudo la lettura dell'articolo quarto se al contrario uno è trasportato al di là dei beni del matrimonio così da essere disposto a compiere quell'atto con qualsiasi altra donna attenzione allora è un peccato mortale attenzione a quello che uno dice quindi se uno si unisce al coniuge ma a seconda della libidine e se non c'è fosse il coniuge andrebbe con qualcun altro allora è un peccato mortale San Tommaso poiché la natura o muove stando sottomessa all'ordine della ragione e allora ha un modo virtuoso oppure si riferisce a tale ordine e allora si ha un modo di libidine quindi attenzione anche quando si parla di questi autori la libidine e la concupiscenza sono sempre state stigmatizzate universalmente quindi ipotesi o non ipotesi teologica questo ricordiamolo sempre specialmente di questi tempi dove da più di qualche parte ci vorrebbe sdoganare ben altro ecco che che la sessualità diciamo così interpersonale uomo-donna insomma vissuta nel contesto matrimoniale ben altro barontini nella sua opera cita invece un passaggio lo ricorderemo lo andiamo a rivedere della prima parte della somma teologia dove San Tommaso di fatto afferma che la generazione tramite coito come naturale esisteva anche prima del peccato allora dice allora rileggo un pochettino no Tommaso si schierava sulla stessa posizione di Sant'Agostino dichiarandosi o contrario all'opinione di alcuni d'antichio dottori come il grevelo di Nissa l'abbiamo visto la volta scorsa del quale riporta l'affermazione che in paradiso il genere umano si sarebbe moltiplicato senza unione fisica per opera della virtù divina e che Dio prima del peccato li avrebbe fatti maschio e femmina guardando con la sua prescienza al modo futuro di generare dopo il peccato a tale opinione Tommaso obietta ma questo non viene detto razionalmente infatti quelle cose che sono naturali per l'uomo ne vengono sottratte ne vengono date all'uomo a causa del peccato infatti è manifesto che per l'uomo secondo la vita animale che aveva prima del peccato come sopra è stato detto è naturale generare per mezzo del coito come anche per gli altri animali perfetti e questo dichiarano le membre naturali a questo uso dei votati e così non si deve dire che l'uso di queste membre naturali non ci fosse prima del peccato come anche delle altre membre evidentemente però a parte che qui poi Barontini lo smonta subito subito e lo smonta con un grande argomento no? le cose che sono naturali per l'uomo va bene certamente le cose che sono naturali per l'uomo non vengono né sottratte né vengono date all'uomo a causa del peccato su questo non ci piove però qual è il problema? quali sono le cose veramente naturali per l'uomo e quali no? chi lo ha detto quello che per Stato Maso è manifesto cioè che per l'uomo secondo la vita animale che aveva prima del peccato era naturale generale per mezzo del coito chi l'ha detto? dove sta scritto? come fai a esserne così sicuro? Tommaso dichiara lo dice così dichiarano le membra naturale a questo suo deputate insomma allora e l'argomento che usa Barontini è geniale mi permetto insomma di rinnovare i comprimenti pensiamo al nostro sistema immunitario non è che il sistema immunitario è nato è nato dopo il peccato originale ce l'avevamo anche prima però il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che finché fosse rimasto nell'intimità divina l'uomo numero 376 il nuovo Catechismo cioè senza peccare l'uomo non avrebbe dovuto né morire né soffrire cioè le malattie non ci sarebbero state e che ci fai col sistema immunitario se le malattie non ci sarebbero state allora che cosa dobbiamo dire che Dio ha fatto una cosa inutile o che quella non è una cosa naturale certo che è naturale no? quindi allora ha fatto una cosa inutile quindi Dio doveva crearlo dopo il peccato originale ma no lo ha creato in previsione del peccato e della decadenza giusto? ancora c'è un'altra confutazione nella risurrezione della carne che pensiamo che noi perdiamo gli organi genitali scusatemi lo dice anche lui perderemo gli organi genitali forse non ce ne avremo più non saremo più maschi e femmine cioè io diventerò non si sa chi un neutro dato che oggi insomma ecco dopo la risurrezione ci sono maschi e femmine d'accordo? state proprio tranquilli dall'altra parte ci sono solo maschi e femmine d'accordo? sicuro? e che ci fanno con gli organi genitali per tutta l'eternità? perché qui Gesù ha detto che non si prende moglie non si prende marito d'accordo? lasciamo perdere tenera amata che ho voluto leggere apposta no? ma non si prende moglie non si prende marito l'ha detto il nostro signore che i sadducegli dicevano sette i pom ma questa ha avuto sette mariti adesso alla risurrezione della carne con chi va? con tutte e sette? e Gesù gli ha risposto che cosa vogliamo dire? quindi che ci facciamo con gli organi genitali per tutta l'eternità? quindi Dio ha fatto una cosa inutile? allora qui il problema e attenzione non è solo questo ma una grande intuizione dei padri della Chiesa è stata questa cioè che la condizione escatologica e qui anche Sant'Omaso non può dire che lì ha detto Gesù è uguale a quella protologica e viceversa escatologica vuol dire dopo la risurrezione si ritorna come era prima del peccato originale ma c'è anche un argomento insomma no ma che la Madonna non ci aveva gli attributi femminili o nostro Signore Gesù Cristo e perché non li hanno usati? l'umanità perfettissima insomma no nostro Signore Gesù Cristo non è un'umanità perfettissima non stava nella condizione sì è vero che ha preso la carne dopo il peccato e in vista del peccato ha assunto una condizione come dire però e come mai no? quindi cioè Sant'Omaso certamente segue una sua logica ferrea su questo argomento però è ferrea ma non è inattaccabile è attaccabile è confutabile è criticabile ho voluto concludere diciamo la parte sistematica con la lettura per chi ci crede anche questo è un testo di torniamo all'ambito delle deliberazioni private di alcuni passaggi del libro di Tenera Amata che parlano della meravigliosa corporeità degli scambi di amore dei beati quindi l'essere una sola carne per Adam e Eva chi l'ha detto che doveva realizzarsi attraverso il coito ma dove sta scritto questo qui dove sta scritto e dove sta scritto che la riproduzione necessariamente la riproduzione umana doveva essere in forma sessuata anche se non concupiscente chi l'ha detto questo qui Tenera Amata non dice che tra gli scambi di amore tra i beati ci siano anche quelli di tipo genitale senza concupiscenza no dice che non ci stanno proprio quindi questo è il quadro prima poi di passare a le considerazioni su Maria Valtorto dobbiamo rifare un attimo il quadro biblico perché nella saga scrittura ci sono elementi a sostegno dell'ipotesi patristica poi rivisitata e spiegata come dire completata a mio avviso da ciò che Gesù ha rivelato a Maria Valtorta per chi ci crede allora numero uno c'è la circoncisione il problema della circoncisione se noi ricordiamo l'abbiamo visto la volta scorsa San Zenone di Verona San Zenone di Verona diceva esplicitamente che il membro di Adamo fu il membro di Adamo a cogliere il frutto proibito introducendo la morte nel genere umano è per questo che Dio ha stabilito la circoncisione San Zenone da Verona non è l'ultimo imbecille rimane comunque una domanda ma noi ci rendiamo conto insomma entrare a far parte del popolo di Israele pure un adulto doveva circoncidersi per forza ma è una cosa brutta questa cosa qui non è una cosa perché quel segno proprio lì punto interrogativo perché un dolore inflitto su quel membro un dolore terrificante cioè Gesù bambino qui basta andare a leggere la mistica città di Dio di Maria da Greta o anche per chi lo conosce la vita interna di Gesù Cristo di Suor Cecilia a bagni oggi sul bambino la circoncisione la fisioterapia era consapevole perché non era come tutti gli altri bambini ma è tutto un dolore allucinante perché questa cosa è andata avanti oi abbiamo rischiato pure noi perché San Paolo ha dovuto l'idia con San Pietro e con gli altri dodici apostoli per far provare la linea che se un pagano veniva veniva a chiedere la fede non doveva essere circonciso perché questa cosa qui poi abbiamo visto le leggi di purità sulle donne no il levitico 12 1 7 possiamo andarlo a rileggere quel passaggio no cioè attenzione le leggi dell'antico testamento è vero che sono abrogate con il nuovo però noi le leggiamo ancora cioè il fatto che siano state date a quel tempo e che per un certo periodo di tempo sono potute anche essere state osservate alla lettera ora la lettera è finita ma lo spirito no però lo spirito no perché il levitico si legge nella chiesa cioè non è che col nuovo testamento tu il vecchio testamento lo butti no il vecchio testamento non si butta perché anche in ciò in cui è decaduta la lettera è attenzione quello comunque è alimento per lo spirito perché Dio non fa cose inutili o cose strane il fatto che con l'avvento di nostro signore come spiega san paolo rettamente correso compreso non come comprendeva Lutero siamo stati liberati dalla schiavitù della legge che si intendono queste cose qui tutte quante queste pratiche formali che però avevano un significato spirituale quindi la forma non c'è più ma lo spirito rimane ma ricordiamo il signore aggiunse a Mosè riferisce agli israeliti quando una donna sarà rimasta incinta e darla luce a un maschio sarà immonda per sette giorni come nel tempo delle sue regole l'ottavo giorno circuncide il bambino e poi resterà ancora trenta tre giorni a purificarsi col suo sangue dal suo sangue non toccherà alcuna cosa santa non entrerà nel santuario perché non siano con più di giorni della sua purificazione se nasce una femmina raddoppia due settimane più 66 giorni totale 80 e terminato tutto quanto questo il sacerdote all'ingresso della tenda del convegno riceverà da questa donna un agnello di un anno come locausto e un colombo una torta nel sacrificio di espiazione sacrificio di espiazione sacrificio di espiazione vuol dire che c'è stato un peccato ma quale peccato c'è stato lì quindi il sangue del parto tra l'altro accostato al sangue delle mestruazioni anche durante le mestruazioni la donna era considerata immonda eppure non si poteva toccare ancora il divieto ai sacerdoti di accostarsi al culto senza astinenza anche nell'antico testamento esodo 9 10 15 esodo scusate 19 10 15 andiamo a leggere velocemente va dal popolo e purificano questi alla vigilia del consegno dei dieci comandamenti che è solo 20 lavino le loro vesti si tengono pronti per il terzo giorno eccetera eccetera guardate nessuno dovrà toccare il costo Mosè scese e le fece purificare 19 15 poi disse al popolo siate pronti in questi tre giorni non unitevi a donna e perché? perché non le posso unire a donna? se non faccio niente di male ancora Levitico 15 16 24 lì si legge che ogni volta che c'è un'emissione seminale maschile l'uomo resta impuro fino a sera e così ogni veste che entrasse in contatto con un'emissione seminale anche involontaria quindi anche in caso di polluzione involontaria notturna così la donna mestruata e chiunque entrasse in contatto con lei perché tutte quante queste norme? Perché questo? Che succede? Cioè tutta quanta questa legislazione per l'emissione del seme maschile ma perché? Levitico 15 16 l'uomo che avrà avuto un'emissione seminale si laverò tutto il corpo nell'acqua e sarà immondo fino a sera ogni vesti o pelle su cui vi sarà un'emissione seminale dovrà essere lavata nell'acqua e sarà immonda fino a sera la donna la donna e l'uomo che abbiano avuto un rapporto con emissione seminale vedete si laveranno nell'acqua e saranno immondi fino a sera ora la donna e l'uomo sposati non i fornicatori o quelli che vanno a prostitute si laveranno nell'acqua e saranno immondi fino a sera conoscevate queste cose sono molte cose che la gente non sa neanche che esistono quando una donna abbia un flusso di sangue cioè il flusso nel suo corpo la sua immondezza durerà sette giorni e chiunque la toccherà sarà immondo fino a sera ogni giaciglio sul quale si sarà messa a dormire durante la sua immondezza sarà immondo ogni immobile sul quale si sarà seduta sarà immondo chiunque toccherà il suo giaciglio dovrà lavarsi le vesti bagnarsi nell'acqua e sarà immondo fino a sera conoscevate tutte le altre vesti chi toccherà qualunque mobile sul quale la donna mestruata si è seduta dovrà lavarsi le vesti bagnarsi nell'acqua e sarà immondo fino a sera se l'uomo si trova sul giaciglio sul mobile mentre essa vi siede per tale contatto sarà immondo fino a sera se un uomo ha un rapporto intimo con essa durante le mestruazioni l'immondezza dire lo contamina sarà immondo per sette giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà sarà immondo ma scusate il sangue mestruale è una sofferenza per queste povere donne che colpa ci sta che succede tutto a sto finimondo è chiaro che non c'è una colpa in atto ma c'è una colpa in causa qui la domanda delle domande da fare e qui ognuno deve rispondere secondo vosce secondo voi la Vergine Maria aveva queste cose o no? è una domanda è una domanda retorica per quanto mi riguarda io la chiederei a tanti intelligentoni che girano adesso solo che forse è meglio non chiederla perché a mio avviso pensare che la donna avesse una roba di questo genere è una bestemmia grossa quanto una casa a mio avviso ricordiamo l'esempio di Davide non lo vado a rileggere no? primo Samuele 21 1 7 si trovano stavano morendo di fame arrivano al tempio chiedono i pani i pani si guarda c'abbiamo soltanto i pani sacri dice io non te li posso dare questi sono riservati ai sacerdoti ma noi stavamo morire di fame va bene almeno siete mondi io quando parto con i miei ragazzi siamo mondi da almeno tre giorni nessuno si è unito a donna da tre giorni a questa parte allora te li posso dare perché se avessero detto ci siamo uniti a donna la sera prima c'erano santi potevi pure munite potevi pure munite di fame quindi che non sei sacerdote si può derogare ma se ti fossi unito a donna non si poteva derogare abbiamo poi il famoso caso abbiamo visto 500.000 volte numero chiaramente iperbolico commentato è stracommentato dai padri il famoso salmo 57 nel peccato mi ha concepito mia madre che rimane nel peccato mi ha concepito mia madre qual è il senso? cioè che una volta che mi concepisce contraggo subito il peccato quindi trasmissione del peccato originale o anche che quell'atto richiama una peccaminosità intrinseca cioè voglia di cioè allora tutti gli atti sessuali anche naturali tutte di tutte le sciocchezze che stanno passando adesso io mi chiedo se queste cose fossero chiare ancora adesso nella coscienza generale cioè ma come fai a parlare di come dire di normalizzare anche dentro la chiesa e lo fanno anche pezzi grossi adesso i rapporti omosessuali quando già con quelli eterosessuali non c'è niente di lecito se non l'atto coniugale aperto alla vita compiuto se vogliamo seguire San Tommaso o secondo giustizia o secondo religione cioè o per rendere il debito coniugale oppure per dare figli a Dio dentro il matrimonio allora non è peccato unico caso voi ragazzi unico caso è tutto il resto ma di che vogliamo parlare e come mai è così ricordiamo anche il prologo di San Giovanni acutamente evidenziato dal Barontini come dice a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome i quali nel testo corrente leggiamo non da sangue né da volere di sangue né da volere di uomo non da carne né da volere di sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono stati generati quel non da sangue non è al singolare non è aimatos ma è aimaton è un genitivo ekton aimaton è un genitivo plurale non è non da sangue ma è non da sangui e nella credenza antica i sangui erano quelli coinvolti nella generazione cioè il sangue bianco che è quello maschile cioè il seme maschile e il sangue rosso che è quello femminile che se pensava che fosse rosso appunto perché è quello che è quello che si vede quando la donna c'è il periodo suo non da sangui ma da Dio sono stati generati e quindi una necessaria rinascita del battesimo perché la nascita naturale è una nascita per la morte ma basta vedere anche il rituale del battesimo il rito antico io tante volte in passato l'ho utilizzato bellissimo oh ma nel rituale del battesimo il rito antico una ricchezza a mio avviso che non era assolutamente il caso di andare a perdere oh ma ci stanno due esorcismi due esorcismi lo sapete che gli esorcismi i preti non li possono pronunciare ci vuole l'esorcista per fare un esorcismo in senso stesso cioè un esorcismo è un comando imperativo dato al diavolo nel nome di Cristo ma nel battesimo il rito antico andatelo a trovare il rito l'ho trovato online ci sono due esorcismi pronunciati esorcismi cioè finalizzati a cacciare il diavolo dal corpicino del neonato questa era la fede della chiesa questa era la fede della chiesa nel rituale nuovo cioè questi sono scomparsi sì c'è un'orazione di esorcismo prebattesimale ma non è un esorcismo perché è espressa attraverso la modalità della preghiera di liberazione umilmente ti preghiamo libera questo bambino dal peccato originale oppure aiutalo a combattere contro il potere delle tenebre ma non c'è più non ci sono più i due esorcismi ma prima c'erano perché? perché quello che è nato da carne è carne quello è nato per la morte quello è nato infetto il padre Pio diceva che un bambino che piangeva lui che era stato battezzato dodici ore dopo la nascita ma hanno fatto stappare dodici ore schiavo di satana lo diceva lui lo diceva lo dico io Gesù e San Paolo diversamente Gesù in Matteo 19 quando parla del celibato se questa è la condizione dell'uomo in confronto della donna non conviene sposarsi dice San Pietro e non è che Gesù gli dice no che dici sposatevi e come lui risponde no no vero non tutti possono capirlo però ma solo quello da cui è concesso perché alcuni nascono e alcuni nascono eunuchi nel grembo della madre altri sono fatti eunuchi dagli uomini e altri si fanno eunuchi per il regno dei cieli che è la cosa più bella che possa esistere io sono di parte su questa cosa qui sono assolutamente di parte e attenzione Gesù ce l'ha con i vergini consacrati quindi con gli uomini poi siccome mancavano le vergini ci ha pensato San Paolo in primo corinzi 8 a elogiare la vergine consacrata e come mai tutta quanta questa eccellenza del celibato e della e della verginità e come mai che Gesù e Maria restarono vergini e come mai che nel libro dell'Avocalisse nel capitolo 14 versetto 1-4 parla di quelli che non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada come mai tutte quante queste cose noi non possiamo fare finta che non esistono ci stanno essi cantavano un cantico nuovo dice poi guardai ed eccolo l'agnello rito sul monte insieme i 144.000 famosi persone che regavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo cantavano un cantico nuovo davanti al trono davanti ai quattro esseri viventi e ai vegliardi nessuno poteva comprendere quel cantico se non i 144.000 eredenti della terra questi non si sono contaminati con donne sono infatti i vergini seguono l'agnello dovunque vada contaminati con donne quindi abbiamo tutto quanto questo patrimonio che viene dalle sacre scritture ora alla luce di tutta quanta questa roba torniamo a risintetizzare quello che Gesù dice a Maria Valtorta anzitutto il racconto del peccato originale secondo Maria Valtorta presenta anzitutto una perfetta consonanza con i dati biblici genesiasi tutti d'accordo tutti fin nei minimi dettagli e con tutta quanta la tradizione della Chiesa perché tra gli aspetti a mio avviso più fondamentali e decisivi di questa narrazione ci sono quei passaggi dove la Madonna stessa parla e spiega come lei è stata l'antitesi di Eva che è un tema assolutamente universale nell'ambito della dottrina sana cattolica cioè Adamo ed Eva che cosa succede il serpente seduce Eva che è la prima peccatrice Eva corrompe Adamo e lo trascina nel peccato se avesse peccato soltanto Eva non succedeva niente amici cari ma trascinando il capo stipite dell'umanità da cui anche Eva deriva il genere umano è finito la redenzione e questo il grande San Leone Magno ha scritto delle pagine meravigliose e non solo San Leone Magno un altro grande che ha spiegato molto bene queste cose è Sant'Anselmo d'Aosta la redenzione è stato fare il contrario di quello che hanno fatto i primi allora chi è stata la causa del peccato originale la donna e chi è la causa della redenzione la causa primaria l'uomo il nuovo Adamo non è la Madonna la causa primaria della nostra redenzione ma è Gesù Cristo la donna poi si è portata dietro Adamo e al contrario il nuovo Adamo si è portato dietro la nuova Eva perché è vero che lui era il redentore principale e doveva riscattare il guaio grosso fatto da Adamo ma è vero anche che bisognava riscattare anche il guaio originante fatto da Eva e chi lo riscatta quello? chi lo riscatta? lo riscatta la nuova Eva voi capite come dentro tutti questi discorsi sta per esempio coinvolto come ho già accennato tutta quanta la tematica della corredentrice io l'ho detto lo ripeto lo ripeto sorgerà e io fin da adesso mi metto ai suoi piedi e lo ringrazio con tutto il cuore un Papa che dirà ella è la corredentrice faccio il profeta? faccio il profeta d'accordo? io sono sicurissimo nel cuore non ho nessunissimo dubbio è solo questione di tempo non è una cosa che succederà a breve sicuramente d'accordo? non è una cosa per me ma non è detto che sia una cosa che ci vogliono altri 100-200 anni io ho già fatto insomma un pochino di quello che storicamente è successo è immacolata 1854 assunzione 1950 con redenzione intorno al 2050 beh io penso che sia può darsi che non c'entrino niente questi questi 100 anni il che significa che nel 2050 insomma non è un termine io può essere spero di no ma potrei pure campare nel 2050 insomma perché ci avrei quasi 80 anni mi fa un pochino senso insomma quindi però certo sicuramente ne sarà cioè mancano 28 anni al 2050 quindi Cavira 28 anni fa ero ragazzino c'aveva 22 anni figurate 28 anni fa a 22 anni eh era appena morto Francesco insomma quindi cioè ne sono passati tanti in 28 anni quindi quindi chi lo sa che cosa ci sepa però ma quel Papa potete stare sicuri non c'è altro fondamento dottrinale su cui io qui parlo da un po' ho letto con un pochino di ideologia non troppa ma l'ha studiata ma il fondamento ferreo della corredenzione è questa dottrina padristica è questa e anche della allora necessità della corredenzione perché è chiaro attenzione che la corredenzione di Maria dipende dalla volontà di Dio non è assolutamente necessaria una corredentrice assolutamente perché Gesù Cristo poteva fare tranquillamente tutto da solo senza bisogno di nessuno questo ce lo mettiamo bene in testa è sempre così ma poteva anche incarnarsi senza bisogno di nessuno ma quando Dio fa una cosa sceglie di fare una cosa e lo sceglie liberamente non perché costretto siccome Dio non è pinco pallino le cose che fa sono le più perfette in assoluto e le più conformi alla giustizia assoluta siccome il peccato è commesso da una coppia la redenzione deve essere realizzata da una coppia anche se si trovano su livelli completamente differenti perché tutto quello che ha fatto la Madonna se non ci fosse stata la morte in croce di Cristo non vorrebbe niente cioè non potrebbe essere offerto come quindi è tutto dipendente derivante il primato di Cristo non è minimamente intaccato dalla 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 la redenzione ma viene ribadito ma questo però non sminuisce affatto l'opera di Maria quindi questo appare chiarissimo e questo a mio avviso è proprio l'elemento clou più ancora delle altre cose che poi vengono dette la dinamica in cui viene descritto il peccato originale è perfettamente consona con il racconto genesiaco quando la Madonna spiega l'albero dai quattro rami superbia avarizia golosità e lussuria la superbia diventare come Dio non morirete affatto diventerete come Dio conoscendo il bene e il male dice il diavolo l'avarizia l'avarizia andarti a prendere qualche cosa che non è tuo cioè farsi procreatori da se stessi temendo di morire con la loro specie se non avessero agito direttamente e quello che la prova di Adam e di Eva secondo Maria Valtorta era questa non dovete violare il segreto della vita ci penso io alla vostra riproduzione non vi preoccupate di questo e quello che di fatto Maria Valtorta descrive è che il serpente seduce Eva le fa conoscere il piacere dopo di che le fa vedere la modalità di riproduzione degli animali dice guarda loro la fanno da solo la vita e la fanno pure godendo potete farlo anche voi fatelo e lo fa detto in due parole è questo quello che è successo secondo Maria Valtorta e questo appare molto attendibile quindi la superbia diventare come Dio quindi eh l'avarizia farsi procreatori da se stessi andarti a prendere quello che non è tuo la gola conoscere il bene il mare cioè che significa conoscere il bene ma voler godere quella è un piacere violento amici cari perché va tutto il mondo appresso al sesso guardate tutto il mondo sta prostrato dinanzi al Dio sesso perché perché è un piacere che fa troppo gola perché è intenso e i professionisti poi del sesso e queste cose qui sappiamo bene cioè io fa soltanto che mi rivolta sta roba qui però cioè io so per conoscenza teorica d'accordo perché che se uno vuole le cose cioè non le immagino ma so d'accordo che si può trarre fuori di tutto e di più da una professionalità diciamo così in questo ambito è poi la stessa lussuria prima da sola e poi maestra di lussuria di Adamo attenzione che a un certo punto viene anche ribadito il senso letterale della Genesi perché negli scritti di Mano d'Alto si dice che veramente l'albero della conoscenza del bene e del male era un albero e che veramente il demonio è apparso sotto l'aspetto di un serpente e che l'essersi recata lì è stata la trasgressione che ha poi causato l'inizio della tentazione perché non ci doveva andare lì non si doveva neanche avvicinare ricordiamo ricordiamo alcuni passaggi no quindi il peccato originale è un fatto complesso è quest'albero dei quattro lami che comincia nello spirito ma termina poi in un atto compiuto prima dalla donna e poi presentato dall'uomo cito Maria Valtorta non le bastò più darsi soddisfazione da sola che significa questo qui volle spingere il delitto ad una raffinata intensità e conobbe si fece maestra di russuria al compagno t'ha scritto così ancora e vedendo volle provare la carne era destata oh se avesse chiamato Dio il padre l'avrebbe guarita ma Eva non va dal padre Eva torna dal serpente quella sensazione è dolce e gradevole per lei vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e bello all'occhio e gradevole all'aspetto lo colse e ne mangiò e comprese ormai la malizia era scesa a morderle le viscere sentite che espressioni vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuovi gli usi e le voci dei bruti e li ebramò con folle ebramosia iniziò da sola il peccato lo portò a termine con compagna pagine 108 109 dell'opera ora questo atto che cosa succede causa una degradazione del genere umano adesso introduce questo si da questo momento in poi irreversibilmente tra gli uomini la generazione sessuata con concupiscenza e far perdere per sempre quel modo misterioso di generare senza concupiscenza che ci sarebbe stato senza il peccato di nuovo citiamo gli scritti di Maria Valtorta dice Gesù io non avevo interdetto agli uomini l'amore volevo che si amassero senza malizia e qui come facciamo a non pensare a quello che racconta tenera amata per esempio che significa amarsi senza malizia anche nella corporeità ma non soltanto no le persone che si scandalizzano credo che qualche riferimento abbiano fatto anche questo cioè io conosco bene Luisa Piccarreta Gesù a Luisa Piccarreta l'ha baciata e non con un bacetto sulla guancia perché se qualcuno ci avesse insomma dei dubbi vada a ritrovare quei passaggi degli scritti cioè dove proprio è proprio esplicita cioè gli ha dato un bacio bacio se un bacio bacio fosse in assoluto un atto intrinsecamente cattivo ma ti pare che il nostro Signore Gesù Cristo lo vado a dare Luisa non solo che non è un atto intrinsecamente cattivo è un atto che può esprimere l'amore tra Gesù Cristo e una creatura non è l'unica anche Santa Margherita Maria della Cocca ha ricevuto una cosa del genere quindi l'amore non era interdetto ma dovevano amarsi in santità di affetti senza nessuna libidine che insozza la libidine insozza insozza ed è molto difficile per una coppia di sposi specialmente poi oggi amarsi anche in quei momenti cioè tutta quanto un'educazione che faticosamente si era riuscita a raggiungere dopo centinaia di anni di educazione alla castità ma pensate che ne so una una Santa Giovanna Beretta Molla col marito io credo che si amassero castamente ma quella in sei anni di matrimonio aveva già fatto quattro figli cioè cioè oggi oggi si è capito cioè perché anche se uno celebra il sacramento del matrimonio non è che poi basta il sacramento del matrimonio perché cioè il sacramento certamente ti dà delle grazie e ti mette al sicuro in alcune azioni ma poi tu devi imparare a santificare e questo per la verità si trova anche nei documenti attuali della chiesa la vita con i ugali stessa devi imparare a farle bene quelle cose diciamo così a farle bene a farle belle che non è facile perché c'è sempre come dire il tiraggio della concupiscenza che la concupiscenza in sé è sempre una cosa intrinsecamente che non funziona perché tende all'appagamento e al soddisfacimento proprio egoistico proprio per il suo principio stesso ed è per questo che la chiesa anche nel catechismo parla dell'integrazione usa queste parole della sessualità nell'affettività cioè che cosa significa significa che tu questo atto che di per sé è egoistico devi cercare di trasformarlo nella misura in cui ami di amore oblativo il conuge in un qualche cosa che diventi oblativo pur essendo in sé comunque egoistico perché presenta quella dimensione che è intrinseca e che non si può togliere non è possibile questo anzi questo è il compito degli sposi e se questo si fa l'unione coniugale diventa veramente molto bella però tutte queste cose bisogna bisogna quindi a tutte queste condizioni è possibile anche una un riscatto e quindi una possibilità di vivere bene la sessualità all'interno del matrimonio non è che non è possibile perché adesso ci si può fare niente ma questo la Chiesa ha sempre cercato di aiutare i suoi figli a tendere verso questo obiettivo ma l'importante è essere consapevoli che è un obiettivo da raggiungere che non è un dato di fatto a priori perché il dato di fatto a priori allo stato brato non è che funziona proprio bene per usare un eufemismo ancora nella lettera ai romani chiudiamo con questo oggi la prossima volta ovviamente concludiamo si legge dopo il peccato originale la passione del senso si soddisfaceva nella carne compagna attenzione fusa non santamente come Dio voleva e come l'uomo innocente pieno di scienza aveva compreso nell'Eden a farsi una carne sola di nuovo io invito per questo che li ho letti a pensare per esempio alle compenetrazioni celesti di cui parla Teneramata nella prospettiva che i padri avevano intuito che la condizione escatologica richiama e riproduce quella protologica che è andata perduta certo le compenetrazioni celesti ce l'ha spiegato Teneramata non potevano essere vissute su questa terra nello stesso modo però ci sono dei modi bellissimi per fondersi come dice Gesù santamente a farsi una carne sola senza passione di senso infine Maria appare come la negazione e l'annullamento dell'Eva peccatrice l'impudica nella carne nel cuore e nella mente ed è la vera nuova Eva che cooperando con il nuovo Adamo come corredentrice collabora riscatto del genere umano si legge infine in Maria Valtorta e chiudiamo che la degradazione del genere umano ricordiamo il commento al famoso Genesi 6 dipende dalla corruzione di Caino e dalle unioni ibrido bestiali che cominciarono da lui e che si diffusero in maniera capillare e che prima che degradassero l'intero genere umano in maniera irreversibile furono da Dio messe a tacere col diluvio universale da cui uscì Noè con i suoi tre figli che non erano ibridati ma erano ancora discendenti di Adamo certamente Adamo peccatore decaduto quindi non erano non erano più tra virgolette nella condizione come nessuno del resto della santità originale ma erano comunque uomini e donne non mezziomini di scimmioni o robe del genere bene la prossima volta concluderemo ripercorrendo rapidamente vedendo l'ultima cosa che abbiamo fatto quindi la critica a Monsignor Bortoluzzi a Don Guido Bortoluzzi adesso non mi ricordo se era Monsignore non lo so riprenderemo alcuni discorsi sulla dottrina cattolica sulla sessualità e poi chiuderemo questo ciclo dopodiché ognuno è libero su questa materia detto ridetto e ripetuto fino alla esasperazione di farsi la propria idea perché il peccato originale come dottrina nella sua origine trasmissione non si discute in che cosa possa essere consistito ed è per questo che ci siamo addentrati in questa indagine è materia su cui siamo liberi al momento di farci la nostra idea fino a quando la Chiesa non dovesse parlare ma come ho già detto da ora fin da allora tutto quello che in questo ciclo di catechesi contraddicesse quello che la Chiesa un giorno dovesse dire fatelo come se non l'avesse mai sentito perché lo rinnego in toto qualora questo dovesse succedere Dio vi benedica e la Madonna vi protegga se Dio vuole ci vediamo per l'ultima puntata speriamo la prossima settimana a presto